Maggiori controlli nel centro storico e più presenze delle forze dell'ordine e le ultime stese al rione Sanità hanno fatto riesplodere in tutta la sua forza l'emergenza sicurezza a Napoli, dove nonostante le ripetute visite di Salvini e le tante operazioni di polizia non si riesce a frenare un fenomeno che continua a seminare panico tra cittadini e turisti. Il sindaco De Magistris, ieri al Comitato per l'Ordine Pubblico, ha ribadito la necessità di intervenire con più incisività. Al di là delle attività investigative che competono alla magistratura e alle forze di polizia, si sono decise una serie di misure che hanno ad oggetto soprattutto un più pressante controllo del territorio attraverso le forze di polizia in alcune aree della nostra città. Intanto il primo cittadino annuncia la delibera sicurezza bene comune che verrà approvata entro il 21 settembre, un atto con cui si punta a superare il vecchio progetto Sirena, per mettere in sicurezza gli edifici di edilizia privata e provare ad impedire altre tragedie come la morte del commerciante di Via Duomo. Infine la questione lavoro su Whirlpool, Dema è molto critico col governo. Un governo che ha in suoi esponenti apicali e nella sua maggioranza relativa una componente che ha avuto al sud molti voti e molti in Campania, tanto da avere il Presidente della Camera e il Vice Premier, io non credo che possano lasciare questi lavoratori e questi lavoratrici al loro destino. La notizia è che Whirlpool vuole accelerare sulla vendita e la riconversione dello stabilimento napoletano di Via Argine. Entro una settimana sarà reso noto l'interessamento di Giovanni Battista Ferrario, ex direttore generale di Italcementi, pronto a costruire nel capoluogo campano dei container frigoriferi, dove oggi si realizzano lavatrici di alta gamma, mantenendo quasi completamente l'attuale organico di 412 dipendenti.